ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi questo è il terzo video di oggi e questa è una gara che feci parecchio tempo fa però non è che vi sto riproponendo la gara in se stessa era giusto per fare un comment insomma per avere qualcosa di sottofondo che cazzo guardate e come vi stavo dicendo in questo video vi voglio parlare di una cosa curiosa che ho scoperto andando in giro per youtube ragazzi allora molti di voi pensano che minecraft è un gioco da bimbi minchia o bimbi nutellosi insomma ste cazzate varie io pure tante volte l'ho pensato e tutto il resto anche se ho alcuni amici che giocano a minecraft e mi dicono che è molto carino come gioco ma a me non piace non è il mio genere di gioco però girando per youtube ho scoperto una cosa molto ma molto carina molto curiosa un utente americano credo che sia americano si è divertito a ricreare su minecraft tutto quanto la mappa di gta in pratica ha ricreato diciamo buona parte della mappa di gta ancora non l'ha finita perché comunque se seguirete il video ve ne accorgerete da soli lo dice anche lui che ancora non l'ha finito questa mappa comunque è veramente una cosa spettacolare da vedere io non pensavo che in questo gioco si potessero fare delle cose simili e come dicevo questa questa cosa è tutta da vedere non posso mettere alcune parti del video dei suoi video nei mio video perché comunque sono di proprietà sua però vi lascerò in descrizione di questo video il link del video di cui vi sto parlando e comunque li troverete anche altri video il canale di questo di questo youtuber niente ragazzi per questo video è tutto io vi lascio un salutone grande grande iscrivetevi e al prossimo video ciao a tutti